Amor Pedestre, un singolare film italiano realizzato nel 1914, è considerato uno dei primi esempi del cinema futurista. Amor Pedestre è una storia di adulterio vista attraverso i piedi dei personaggi, un film decisamente anticonformista che dimostra le enormi possibilità espressive del nuovo linguaggio e diviene un piccolo gioiello d'avanguardia. Amor Pedestre 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 Amor Pedestre